Siamo a metà, ma ce ne ho avuto il testo. Ma ti aggiungo io? No, ma ne ho anch'io. Ricordo a entrambi i candidati che non hanno ancora usufruito della possibilità di utilizzare il diritto di replica, se lo ritengono. Bene, riprendiamo da Verlicchi. Il prossimo tema, visto che l'economia è vasta, ha tante sfumature, penso che per Lugo il commercio sia centrale, sia per il centro storico che anche per altre aree. In particolare la crisi in questi anni è arrivata in maniera molto forte anche in Romagna, nel Lugese, i centri storici hanno sofferto più di tutti sul fronte del commercio. Insomma c'è un tema, un luogo, a Lugo, penso caro a tutti, che è il pavaglione. La giunta uscente ha presentato un progetto che è stato discusso ed approvato. Io vorrei capire dai due candidati cosa ne pensano di quel progetto e se pensano invece che sul pavaglione ci si possa mettere mano in maniera diversa. E' vero, servono parecchie risorse e oggi questo è un altro tema delicato. Verlicchi. Io non vorrei mancare di riguardo a chi ha lavorato attorno ad un progetto, non lo conosco, non so le regole pattizie, ma se è possibile abolirlo lo abolisco domattina. Perché introdurre delle betulle all'interno dell'area del pavaglione mi pare veramente una cosa ridicola. Si parla di commercio, sono perfettamente d'accordo, ma il commercio c'è se c'è la produzione. Ora devi partire dall'agricoltura, devi partire dall'industria manifatturiera, artigiana e sicuramente il commercio. L'Ugo, il pavaglione, deve ritornare ad essere ciò che è stato nell'antichità, coi tempi moderni di ora. Unire tradizione e innovazione, quindi con le grandi firme, quindi negozi di prestigio, la tipicità del nostro territorio, laboratori artigianali, renderlo un luogo vivibile e attraente, ospitale. Oggi, purtroppo, per politiche accelerate è brutto e caro. Dobbiamo invece rivitalizzarlo. Non solo il pavaglione, ma tutto ciò che c'è attorno a questo. Ci vuole quindi una politica proattiva, vale a dire liberare tutte le energie positive, sono tante, presenti nel nostro territorio, per dare spazio a chi ha delle idee. Non bisogna avere paura delle idee. Il confronto fa crescere ed aiuta tutti quanti. Invece un'amministrazione autoreferenziale e che pensa che chi ha un'idea diversa sia un nemico da abbattere, questo è un sistema che va abbattuto e si può battere solo se c'è la volontà di credere nel cambiamento e dare questa possibilità. Io, sul progetto delle betulle, ho già fatto una battaglia, una lunga discussione all'interno del nostro partito e, come devo dire, oggi siamo arrivati alla definizione di quel progetto e la valutazione, così come per andare avanti rispetto a quel processo, esattamente per tornare indietro, è una discussione che deve essere affrontata intanto all'interno del Consiglio Comunale e all'interno della Giunta. Io dico questo, noi abbiamo una grande opportunità e questa opportunità è data dal nuovo decreto Franceschini sulla cultura, sulla salvaguardia dei beni culturali. Quel decreto dice una cosa molto precisa e penso che noi saremmo sciocchi se non ci mettessimo a discutere seriamente di come recuperare il nostro patrimonio artistico e culturale. Quel decreto dice che finalmente mettere insieme pubblico e privato per recuperare quei beni sarà molto più semplice e si potrà fare in tempi molto più rapidi. Franceschini l'ha chiamata una deregolamentazione. Io penso che mai, come in questo caso, la parola deregolamentazione sia una parola giusta. Quindi oggi noi dobbiamo iniziare a cercare partnership che troveremo perché il nostro tessuto imprenditoriale ed economico è un tessuto molto attento al suo centro storico e alla bellezza di quel centro storico e insieme a loro attraverso un project financing, cioè andando a cercare di reperire risorse sia pubbliche che private, potremo finalmente portare a compimento quella ristrutturazione del pavaglione che è iniziata durante il corso di questa legislatura con il rifacimento del tetto. Il tema è, per farci che cosa? Perché questo è il tema. Io penso che il pavaglione non debba solamente avere una vocazione commerciale, questo senza ombra di dubbio, ma tornare ad un pavaglione che possa ospitare al primo piano associazioni di volontariato, i rioni, tutti quei soggetti che hanno voglia di tornare a stare in centro, possa essere un meccanismo e una motivazione per poter tornare a far vivere il nostro centro storico. Dico una cosa rispetto alla crisi del commercio, che è vero che non è stato fatto tutto quello che era in nostro potere da parte delle amministrazioni, forse per agevolare, questo è una riflessione che possiamo fare in ogni momento. Gran parte però delle difficoltà che oggi il commercio vive è data dal fatto che molta gente oggi non ha più soldi da spendere. E il punto sul quale ci si dovrebbe concentrare è il fatto di poter tornare a mettere qualche soldo in più nelle tasche dei nostri cittadini. Il governo nazionale lo sta facendo, noi dovremo da qui ai prossimi mesi valutare se per alcune fasce di reddito esentare, oggi siamo a 11.900, dovremmo arrivare a 15.000, esentarli ad esempio dall'IRPEF. Questo potrebbe aiutare a mettere in tasca con i cittadini oltre gli 80 euro di Renzi qualche decina di euro in più tutti i mesi da poter spendere e magari provare a rilanciare attraverso questo meccanismo il nostro commercio che merita per la storia che Lugo ha avuto in questi anni.